calignaia 27 di agosto 2019 un bel clima pre settembrino si sta diffondendo nell'ultima settimana di agosto mare calmo con un olio acqua fresca pulita trasparente tanto sole che però ormai non brucia più come a giugno e a luglio la baia di calignaia è sicuramente un bel posto lungo il litorale labronico per venire a fare un po di mare un saluto